ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi video un po' particolare come sempre io voglio sempre pubblicizzare o meglio pubblicare non pubblicizzare che è diverso i miei dati di youtube perché intanto per un discorso di trasparenza ai nostri confronti giusto per farvi capire quello che sono un po' l'andamento quello che riguarda anche un po' non dato le mie finanze perché chiaramente sono cifre veramente di soli infatti piuttosto per farvi capire un po' come funziona anche al di fuori dal di dentro e chiaramente come sappiamo tutta questa situazione covid degli ultimi tre mesi cioè in realtà siamo in lockdown l'ultima partita fu l'8 marzo quindi parliamo di poco meno di tre mesi ma tre mesi con l'inizio del campionato praticamente pieni però già con delle avvisaglie prima di quel 8 marzo ricorderete delle partite rinviate le partite giocate non si sa quando le partite giocate a stadi chiusi insomma chiaramente era già una situazione quella di dal metà febbraio in poi già abbastanza critica per certi versi chiaramente volevo far vedere un po' e scoprire insieme a voi in realtà perché tutto ciò che vi farò vedere sono scoperte che ho fatto adesso perché non sto a guardare gli analytics ogni giorno sono insomma quelle che è la fotografia di quello che dell'impatto che ha avuto su youtube questo covid per quanto riguarda chi come non ha giocato ha giocato ha parlato di calcio scusate noi youtuber calcisti ci siamo mediamente siamo molto legati chiaramente all'evento partita senza le partite gli argomenti vengono un po' meno come sapete ho fatto anche dei video come tanti altri miei colleghi però tendenzialmente i numeri sicuramente lo confermeranno anche che i numeri più grandi dei miei hanno avuto delle difficoltà al netto di magari collaborazioni dei live tipo ad esempio juventibus ha sicuramente sbancato tutto perché ha fatto una bellissima cosa con i live con dei personaggi molto influenti questo perché chiaramente zampini ha delle conoscenze importanti visto che lavora anche per tv chiaramente per tutti gli altri che hanno come me un canale youtube normalissimo in cui posta i propri pensieri i propri video chiaramente la cosa non è facile facile da portare avanti nella scuola stessa insomma portata di prima o maggiore sicuramente non maggiore vorrei tanto oltre a questo oltre a vento partita come sapete noi youtuber calcistici poi dipende anche un po' dal tipo di linea editoriale chiamiamola così che portiamo avanti tendenzialmente il calcio mercato in realtà sarà cioè il campionato serve l'evento partita serve per consolidare nel tempo gli utenti chi ci segue il calcio mercato serve fare un po di di reclutare un po di utenti perché col calcio mercato sono spesso notizie per la buona parte delle volte non vere e appunto per questo come dico spesso col calcio mercato si raggiunge più l'interesse della persona perché si dice una cosa magari particolare una cosa che non è quindi come una partita che tutti abbiamo visto quando è piuttosto come un evento incerto e per questo motivo porta molto interesse quindi col calcio mercato spesso schizzano molti numeri delle persone che parlano in calcio mercato piuttosto di malinatori e così via mentre poi durante l'anno con le partite consolidi fai un'opera di consolidamento di quelli che sono questi numeri qua con una crescita un po' meno esponenziale questo è chiaramente però per quanto riguarda la situazione covid il discorso è tutto il contrario sicuramente non è esponenziale o meglio di non è in qualche modo molto notevole il calo drastico quanto piuttosto un calo un po' fa la volta perché per tutti voi giustamente anche per noi è calato un po' l'interesse verso il calcio visto che i problemi erano altri chiaramente forse questa volta di questa cosa di di avere un calcio estivo con un calcio mercato da in cui parlare potrebbe portare invece molta fortuna a noi facciamo un passo indietro e voglio portare i numeri del mio insomma mediamente i numeri dei cifre così molto 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 facili molto dirette di tre blocchi di tempo i tre blocchi sono di due e mezzo di due mesi e mezzo l'uno perché due mesi e mezzo perché ho cercato di dividere l'ultima parte da da quello che è una soluzione molto più come dire 2020 quindi da gennaio gennaio febbraio e metà marzo poi da metà marzo a fine marzo più aprile maggio quindi due blocchi di questi primi cinque mesi del 2020 che sono una parte i primi due mesi e mezzo di quasi normalità se non fosse per l'ultimo mese gli ultimi mesi e mezzo fino a fine maggio sono di totale anormalità perché sappiamo che è successo più il terzo blocco che quello di riferimento in una situazione normale ideale in cui si giocano molte partite sicuramente più di quelle giocate nell'inizio 2020 perché sono le festività queste cose qua e quindi ci sono molto più più cose rilevanti interessanti di cui parlare quindi faremo questo confronto tra tre fasi secondo i dati del mio canale queste tre fasi molto molto diverse vedremo anche perché come detto prima lo faccio però anche per pubblicare un po i miei dati a voi per capire un po l'andamento di chi fa youtube per me e quello di quello che sto da affrontare perché poi mi sono dovuto un po reinventare al di là di quelle che sono state dei video in realtà di riempimento nell'ultima parte abbiamo fatto anche delle live in più rispetto al solito piuttosto che i quiz che ho fatto al di là di quello che poi è stato al seguito sicuramente mi sono divertito molto penso che youtube in questi mesi in realtà abbia avuto il grande è stato molto bello lavorare sui social perché mi sono divertito molto e ho consolidato invece le amicizie con le persone che sono all'interno dei social cosa che magari solitamente non si fa perché si dedica di più tutto il tempo alla vita reale rispetto a quella virtuale invece in questi due mesi e mezzo tre c'è stata la possibilità di consolidare la vita virtuale non quella reale quindi questa cosa qua ha dei numeri che sono numeri e che alla fine so benissimo che la mia non è una fonte di guadagno youtube ma di questo in realtà mi sono molto divertito e sono molto contento di quello che è stato insomma anche con i rapporti interpersonali virtualmente parlando con i miei colleghi primo screen questa situazione non se le date me lo dico io tra metà ottobre il blocco di un mese e mezzo tra metà ottobre e fin dicembre abbiamo sicuramente i numeri più grossi legati al fatto che sono tante partite contando di champions league quindi ci sono sicuramente modi di a raggiungere più persone perché le partite di champions league tra ottobre e dicembre sono sicuramente più interessanti di magari altre partite minori della serie a punto per questo in cui del mese e mezzo ho fatto 42.635 visualizzazioni con tempo di visualizzazione in ore 1.948 ore più 24 iscritti che sarebbe altro non sarebbe che la delta tra gli iscritti che ho fatto e quelli che sono disiscritti perché ci sono tanti che si disiscrivono e poi chiaramente lo dirò dopo il perché entrate stimate 31 dollari 66 conversioni in euro sono un po meno in euro mi pare sono 30 euro facciamo così di mezzo c'è anche le donazioni tutto quanto questo questa è la mia fotografia di quei due mesi e mezzo quindi la situazione ideale normale nel momento in cui c'è un campionato che va avanti senza grandi intoppi perché il coronavirus ancora era per fortuna in realtà poi purtroppo perché è arrivato una cosa lontana anzi forse neanche ne è conosciuta veramente perché poi si metterà solo da dicembre e gennaio in poi comunque questo è un altro discorso andiamo avanti con lo screen 2 la situazione dei primi due mesi e mezzo di calcio che come vedete è dimezzata se non di più anzi più che dimezzata qua siamo in situazioni di gennaio febbraio e metà marzo situazioni in cui c'è un inizio dell'anno un po' a ralliti perché c'è un po' di pausa invernale ci sono un po' di coppa italia c'è cose che magari sono molto interessanti l'unico big match che ricordi di là di quello con la Lazio mi pare che abbiamo perso c'è il match quello l'ultimo, l'ultimo, l'ultimo spazzo di energia che è all'interno di questi dati perché ho voluto intanto piove perché piove perché sta piangendo a vedere questi dati è entrato di questo intervallo di tempo perché essendo appunto giocato all'8 marzo l'intervallo di tempo finisce il 15 come vedete 20.333 visualizzazioni con 1.517 ore in realtà il rapporto è anche molto buono di quello delle ore perché prima erano 1.900 su più del doppio delle visualizzazioni qua invece sono 1.500 quindi ho consolidato come si può dire proprio le persone che hanno visto più minuti i miei video 12 iscritti in più cioè al netto di chi si è iscritto e chi si è iscritto quindi potenzialmente potrebbero essere 20 iscritti e 8 di riscritti 57,99 euro di entrate perché sono maggiori di quelle del blocco prima perché ci sono molte donazioni visto che ho iniziato quella collaborazione con la musica di Angelo Onlus e molti di voi hanno donato dei soldi che poi ho già girato come donazione appunto a questa Onlus appunto per questo quel numero la prende sia le entrate legate alle visual sia le entrate legate alle donazioni in live quindi già un drastico calo che chiaramente anche se fosse stato un discorso momentaneo cioè poi il Champions League che sarebbe ricominciata di questo intervallo temporale cioè solo una partita quella contro Leone ma pensate voi se avessimo comunque superato magari il girone cioè il turno in realtà avremmo potuto dare altre partite più interessanti quindi chiaramente più persone che guardano i miei video e sicuramente quel numero sarebbe stato molto più positivo di lì al mese di marzo, aprile e così via e infine arriviamo all'ultimo intervallo che è questo, l'ultimo intervallo è un disastro un disastro perché tutto cambia al di là delle entrate che poi sono molto così condizionate dal fatto delle donazioni quindi sono dimezzate ma anche perché in realtà erano più che dimezzate perché erano tantissime oltre quelle che ho generato con le visual rispetto al blocco precedente tra quindi metà marzo e fine maggio abbiamo 17.000 visualizzazioni abbiamo avuto 3.000 circa in meno del blocco prima che però la vera differenza è che avevo 903 ore di visualizzazioni rispetto alle 1.500 su 20.000 di prima quindi qua è un risultato molto molto negativo per quanto mi riguarda tanto che gli iscritti al netto di tutto sono meno 5 ma mi sono d'accordo che io praticamente in tutto questo più o meno facendo dal pre-lockdown al post-lockdown inteso come adesso mi sono d'accordo che ho fatto una crescita al netto di iscritti e disiscritti di zero persone cioè qualcuno si è iscritto ma moltissimi si è iscritti ma adesso vi dico il perché intanto perché è un discorso generale un po' che pietra a tutti perché si è perso l'interesse quindi persone che non hai fidelizzato molto bene vanno via perché non hanno più volo di essere il calcio in quel momento il calcio non lo seguono magari fanno pulizia più la pulizia che fa youtube sempre la fa sempre youtube le account quelli là inattivi ma oltre a questo è un discorso che molti utenti noi facciamo vlog sul calcio non vengono fidelizzati nel senso che se tu fai un video io ho fatto un video in cui c'è intanto perdonatemi la pioggia ma perché più parlo di questi atti osceni più piove perché sta piangendo anche il cielo a di questo fai dei video magari come il video che ho fatto io che è arrivato a 42.000 visualizzazioni perché è arrivato è dato su non so come con l'algoritmo tra l'altro parlo di algoritmi è un argomento molto molto recente appunto per questo tante volte la gente si iscrive a questo video perché vede il video e gli piace in quel momento poi nel tempo non riesce a fidelizzare perché si aspetta contenuti molto simili che io non porto magari porto molto qua e là quindi appunto per questo motivo diciamo che c'è molta difficoltà nel fidelizzare le persone con vlog calcistici a meno che questa persona non si affezione a te nel tuo modo di porti ma spesso viene coinvolta nei tuoi contenuti solo per contenuti molto più mainstream che poi in realtà non puoi proporre nel tempo appunto per questo motivo queste persone qua prima o poi si descrivono questa è una cosa che vale un po' per tutti i youtuber ma specie per noi specie per noi perché chiaramente meno che quanto riguarda il calcio riguarda Juventus come sappiamo le opinioni sono molto divergenti da tifoso a tifoso e questa cosa qua spesso ha portato scontri tra tifosi stessi e scontri tra youtuber stessi perché poi alla fine è vero ci facciamo anche un po' una guerra magari anche silenziosa appunto per fazioni diverse appunto per questo motivo è difficile fidelizzare perché spesso degli utenti che seguono uno che la pensa totalmente diversa dall'altro youtuber non seguirà entrambi gli youtuber ma solo uno o solo l'altro quindi un po' un discorso si va ad erodere le quote di mercato dell'uno e dell'altro diciamo così in un termine molto più quasi economico e appunto per questo motivo questo meno 5 qua che aveva un momento di disinteresse sul calcio è andato piove sempre di più perché chiaramente questi numeri qua sono più sceni farò l'ultimo check quando vediamo l'effetto di tutto ciò che sta accadendo quindi giugno, luglio e metà agosto perché poi metà agosto finirà questo campionato ci sarà un po' di stallo per la ripresa del campionato successivo quindi vorrei vedere se in questi due mesi effettivamente vado a confermare la mia teoria del fatto che col calcio che comincia se più interesse col calcio mercato di mezzo ancora di più e speriamo che questo 17.000 torni non dico ai 40 e passa a 1.000 del primo blocco che vi ho fatto vedere ma perlomeno a un buon 30.000 cioè l'iscritto è una buona crescita e quegli iscritti sia in qualche modo positivo ecco questa è la mia analisi e chiaramente sono vicino a tutti gli youtuber che soffrono come me ma chiaramente questo va anche a spiegare una cosa molto importante ed è per questo che il calcio deve ricominciare e per questo che sono a pro a favore di questa ripresa perché se noi il nostro impatto su youtube è stato questo e per molti di chi fa youtube è un passatempo al di là di chi magari percepisce qualche soldino in più di me pensate a chi lavora col calcio pensate anche banalmente i giornalisti cioè tutto il mondo mediatico che lavora col calcio che si è trovato privato di uno dei settori fondamentali di questo paese e appunto per questo il calcio deve cominciare perché dà lavoro sfama a diverse persone banalmente youtuber ma non è il nostro caso perché siamo tutti quanti in modo anche così di perpassione non per motivi professionali però pensate a chi fa del calcio una professione che non sono solo i calciatori questo è un piccolo esempio di quello che può essere stato l'impatto ancora più aggressivo in un mondo più professionale legato al calcio quindi tutto l'indotto dai media a ristorazione ai trasporti a tutto quello che ne consegue chiaramente parliamo di ovviamente 250.000 persone che lavorano nell'indotto calcio parliamo di miliardi di euro tutto il giro di soldi quindi questa è una piccola fotografia una goccia del mare del calcio che in realtà ripropone quello che è sicuramente l'andamento purtroppo negativo del mondo del calcio in questi mesi qua come detto prima al netto di Juventibus che ha lavorato benissimo secondo me veramente i complimenti a loro sono sincerissimi perché hanno trovato un modo molto molto facile in realtà ma non per questo scontato è banale di raggiungere persone in un momento di così di pausa grazie alle loro live quindi questo è quella però un'eccezione che conferma una regola in realtà nient'altro che questo io e la pioggia che è sempre più scrosciante tra l'altro oggi l'ho detto anche in live dovevo cominciare oggi gli allenamenti di carattere aperto distanziati quella chiaramente ha fatto tre mesi di mai pioggia di siccità e piove oggi questo è il karma questo è perché mi vogliono bene e appunto per questo vi invito a scrivervi come consolazione rispetto a questa situazione di profonda crisi interiore forza io come sempre ragazzi ci vediamo fra due mesi e mezzo voglio vedere i numeri sono curioso a questo punto ciao siamo sempre qua storie in bianco e nero dove abbiamo solo un ruolo visto da comparsa